Per gestire le spese aziendali esistono numerose applicazioni tramite le quali è possibile controllare la spesa, ma anche gestire le fatture e tanto altro. Quando si tratta di scegliere tra le varie applicazioni che sono disponibili non è sempre facile individuare quelle che possono essere le più adatte. Sono state selezionate 10 che possono aiutare. Applicazioni per il controllo delle spese. Le migliori sono loro formatoni usa ad esempio vi citiamo una prima applicazione, si chiama QoNTO Business tramite la quale è possibile gestire con una sola app, tutti gli aspetti della finanza aziendale della propria società. Grazie a questo utilizzo è possibile sfruttare la fatturazione elettronica per creare e inviare le fatture. Inoltre l'amministratore può impostare un limite di spesa alle carte di credito, connesse e quindi monitorare i flussi di denaro. Inoltre con QoNTO è possibile anche digitalizzare le ricevute. La lista completa Revolut Business permette di inviare il denaro in tutto il mondo con tariffe competitive, effettuare e ricevere pagamenti da un solo conto bancario. Tramite questa app si può cambiare il proprio denaro in circa 28 valute. Con Revolut Business è possibile avere carte di credito aziendali sia fisiche, sia virtuali. Questa app può essere collegata alle proprie applicazioni aziendali, per avere un funzionamento più completo. Altra app è Wise Business, con essa è possibile inviare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Altra applicazione da segnalare è ZOO, con un software per la gestione delle spese aziendali Il software permette di gestire le spese, autorizzare i rimborsi, tracciare le spese complessive e monitorare le analisi per poter comprendere come risparmiare